Sala conferenze della Fondazione Aiutiamoli a vivere affollata per la tavola rotonda organizzata dalla FIGC settore giovanile e scolastico Umbria. Dal titolo, una proposta per il giovane calciatore mediante la realizzazione di programmazioni e metodologie condivise tra FIGC e società sportive, che si è tenuta in occasione dello svolgimento del corso allenatori UFAC. In apertura ha fatto gli onori di casa il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a vivere Fabrizio Pacifici a seguire l'intervento del Presidente del Comitato Regionale Umbro della FIGC Luigi Repace, che ha ringraziato per il lavoro svolto dirigenti e tecnici. L'introduzione è stata curata dal coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico Giacomo Parbuoni, che ha parlato di come migliorare il calcio giovanile. Ha aperto lo spazio dedicato ai relatori il Presidente regionale dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio Pierluigi Vossi, che tra i vari argomenti ha evidenziato l'importanza del ruolo del responsabile tecnico del settore giovanile, una figura che va qualificata a livello federale, tanto che prende l'avvio un corso specifico a livello di società professionistiche. Per Danilo Velini, selezionatore della rappresentativa regionale Giovanissimi Under-14, specializzazione è il termine ideale ed in questo senso va sottolineato e valorizzato il lavoro del tecnico di base. Un'esperienza diversa perché fatta tra i professionisti, quella alla quale ha accennato Stefano Furlan, responsabile tecnico del settore giovanile della Ternana Calcio. Ha poi illustrato l'organizzazione e le attività del Centro Federale e Territoriale di Solomeo il responsabile tecnico del centro, uno dei 50 presenti per ora in Italia, Mauro Basilico. A tirare le fila, animare la discussione con domande specifiche, il Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Umbro, Giampiero Micciani, che ha evidenziato i tre aspetti di riferimento imprescindibili per il miglioramento dell'attività del settore giovanile, l'agenzia formativa, la programmazione e la carta dei diritti dei bambini. Al termine della tavola rotonda sono state consegnate riconoscimenti per alcune scuole calcio del territorio, Olimpia Tirus San Valentino, unica elite della provincia, Amerina, Eriberto Bosico, San Gemini Sport, Ternana Calcio, Terni Est Social School, Narnese Calcio, Orvietana, Campitello, MC98 e Narnia 2014.